La bella Laura Torrisi, famosissima moglie dell'attore e produttore comico Leonardo Pieraccioni, torna a vestire panni sexy, o forse dovremmo dire a svestire. Sì, perché dopo la lunga lontananza dalle scene, la Torrisi torna, per ora solo su Instagram, a posare in biancheria intima, ancora nella mente di moltissimi uomini, per l'interpretazione di una moglie bellissima, la pellicola diretta dal marito Leonardo, in cui interpretava la prorompente, ma un po' sempliciotta Miranda. Laura ci riprova e posta sul celebre social network gli scatti del backstage per lo spot di un noto marchio di biancheria intima. Nuova testimonial della campagna di intimo Lepel, la Torrisi mostra ancora una volta le sue grazie per la gioia di tutto il pubblico maschile.